ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del tagliagole oggi ragazzi torna la vostra rubrica con l'amico piero francesco che ci spiega ci racconta ci mostra tre coltelli usati nel cinema ragazzi ovviamente video divertente da prendere dal lato cinematografico del coltello però prima di iniziare i saluti salutiamo giuseppe di 11 anni ettore di 6 anni e vincenzo di 3 anni e il papà eugenio ovviamente che ci tiene a puntualizzare che vive a perugia ma non è perugino è calabrese viva la calabria ragazzi ragazzi ciao a tutti sono contentissimo veramente che mi seguite soprattutto i bambini mi raccomando ragazzi mi arrivano tante richieste per saluti a bambini di 50 anni solo solo i bambini ciao ragazzi ciao a tutte e tre che non mi ricordo giuseppe ettore e vincenzo ciao ragazzi andiamo a sentire la bella storia di francesco via ciao agli amici del pacchetto del tagliagole innanzitutto un ringraziamento a floriano che mi ospita nella sua rubrica i miei coltelli voglio fare prima di mostrare i coltelli un paio di premesse la prima non sono un esperto di coltelli mi sono avvicinato a questo mondo affascinante soltanto da poco e la seconda premessa che voglio fare questa oggi mostrerò dei coltelli che sono legati al mondo del cinema sono diventati mitici perché si vedono in film che poi sono entrati un po nell'immaginario collettivo non sono tutti i coltelli che ho questi sono coltelli che tengo in collezione poi come potremo vedere non si esclude che possono essere usati poi ho altri coltelli che uso però oggi vi faccio vedere alcuni coltelli che può che appunto sono legati a dei film e cominciamo con il siberiano allora questo magnifico coltello che potete ammirare compare nel film educazione siberiana del 2013 di gabriele salvatores film che è tratto dal romanzo omonimo di nicolai il è un coltello realizzato dalla maserine che è un ditta italiana sul disegno dello stesso liline che appassionato di coltelli e si diverte anche a disegnarli do anche due misure il coltello una lunghezza totale di 293 mm la lama a punta curva in acciario inox 440 a della lunghezza di 170 mm spessore 4 e 5 mm la manicatura che vedete è in legno di olivo c'è anche la versione con manicatura in legno di pausanto a me piaceva questa in olivo che tra l'altro è comodissima grippantissima che cosa c'è da notare che il coltello ha una generosa godronatura come potete vedere e anche una bellissima finger chole e tra l'altro un dito qua nella finger chole l'altro sotto la guardia e qui avete una presa che io trovo veramente che è comodissima tutto questo per dire che cosa che chiaramente è un coltello da collezione più che altro però non escluso assolutamente che possa essere usato perché l'acciaio credo che sia molto buono e 440 a e la godronatura questa è comodissima addirittura si arriva fino a qua ovviamente c'è anche una finger chole quindi non si può escludere che il coltello possa essere tranquillamente usato c'è anche il foro per il laccetto che non deve mai mancare meglio che ci sia una cosa da notare questa una cosa che è riportata proprio nella scatola sulla scatola che contiene il coltello dice nicola e linin che ogni coltello ha una sua anima questa anima si integra con quella di chi possiede il coltello e lo aiuta a scoprire quali sono le sue potenzialità molto bello molto poetico credo che valga un po per tutti gli appassionati di coltello il coltello ha un suo meglio il suo magnifico fogro in cuoio l'accetto di ritenzione anche questo chiaramente made in italy fatto a mano and made con disegno anche inciso del fodero stesso volevo far notare una cosa che mi stava scappando eccola qua e sulla lama vicino alla guardia vediamo se riesco a incontarla bene sia esatto disegno probabilmente opera del stesso linin con coltello crocifisso e quella che poi si vede è una tocaref che è un mito diciamo russo rappresentata quindi anche quella direi che per questo coltello abbiamo detto mi pare tutto quanto e passiamo al prossimo allora con i film vado indietro nel tempo abbiamo cominciato col siberiano del 2013 andiamo poi indietro 2001 attenzione attenzione rullino i tamburi squillino le trombe cosa abbiamo qui se usciremo ad inquadrarlo nessuno interessa un'impresa infatti non possiamo riuscirci abbiamo il coltello di aragorn tratto dalla trilogia del signore degli anelli compare già nel primo film del 2001 la compagnia dell'anello allora vediamo se riesco comunque a farvelo vedere una bella carrellata cinematografica eccola qua allora attenzione questa è una replica made in china senza licenza cinematografica dei coltello utilizzato nel film c'è una ditta che è la united cutlery che invece realizza le coppie di questo coltello con licenza cinematografica per la verità le repliche della united cutlery non si trovano più e si trovano questi cinesi io comunque ho guardato anche un po le foto delle repliche della united cutlery e devo dire che non c'è nessuna differenza sono perfettamente identiche probabilmente l'acciaio è più scasso questo è un acciaio che non so neanche quale sia comunque stainless vediamo se si vede stainless si si vede un po' quindi sempre un inossidabile non credo che sia un acciaio di qualità quello è usato dalle united cutlery è il 420 j2 che cosa volevo osservare riguardo a questo coltello che è quasi mini sciabola diciamo un'opera di fantasia però proviamo adesso immaginare che questo acciaio sia un acciaio abbastanza performante un m690 con laminato cos uno slepner di due quello che più piace a voi e quindi probabilmente sul legno qualche cosa fa che cosa questo coltello di caratteristico innanzitutto bene o male ci ha direi la sua finger chole eccola qua io credevo che all'inizio non mi intendevo molto di coltelli come dicevo che fosse semplicemente un particolare estetico no qui ci vai con la mano vai avanti se vuoi fare dei ricciolini si potrebbe addirittura qui affilare ancora di più questo coltello che non è affilato perché solo da esposizione quindi una doppia affilatura una media una filatura differenziata qui molto affilato per fare bene i ricciolini mi ricordo un po alterava scrama che se non sbaglio proprio questa caratteristica quindi questa in realtà generosa impugnatura permette una impugnatura diciamo avanzatissima eccola qua per i lavori di fino poi una impugnatura diciamo avanzata che potrebbe essere più o meno qua facciamo conto un'impugnatura intermedia che questa è veramente comoda poi per carità se uno va indietro si ferma c'è questo spuntone dove la mano si può fermare qua del shopping forse ci esce anche fuori non so se è adatta la lama così curva per i battoni questo magari me lo dite proprio voi amici del parchetto che ve ne intendete senz'altro più di me allora questo è legno quindi è una cosa abbastanza seria questo dovrebbe essere ottone però non ci scommetterei sopra potrebbe essere effettivamente ottone e vi faccio vedere anche un'altra cosa meravigliosa che è il fodero eccolo qua che è una cosa serissima perché questo è un fodero in legno ricoperto da similpelle con i suoi bellissimi i ganci per portarlo alla cintura poi non credo che uno vada nel bosco con una cosa del genere ripeto un coltello chiaramente da collezione puramente da collezione che però se fosse realizzato secondo me con un acciaio buono magari qualche soddisfazione operativa la potrebbe anche dare vediamo anche adesso il prossimo io sento già una voce che dice quello è un coltello questo è un coltello eccolo qua questo è l'outback boy dal film mister crocodile dandy del 1986 con paul hogan un film simpaticissimo simpatico il film simpaticissimo paul hogan coltello realizzato dalla down under knives che dal nome senz'altro è una ditta australiana una vera bestia direi di coltello lunghezza totale 405 mm lama lucida a specchio clip point eccola lì in acciaio inox 440 a tempo differenziata 5845 hrc della lunghezza di 280 mm spessore generoso della lama 6 mm manicatura in legno di ebano non si scherza con anelli di cuoio una bestia di coltello eccola qua una cosa favolosa si vede tra l'altro anche nel sequel del film mister crocodile dandy 2 eccolo qua vi devo far vedere perché mi stavo in realtà dimenticando anche il suo foderino chiamiamolo foderino è una bestia di fodero eccola qua fodero in pelle con fire steel ecco il nostro fire steel fantastico con l'accettino e denti verosimilmente di coccovillo ma anche qua non ci mettere la mano su fuoco si può portare chiaramente alla cintura e cosa possiamo dire che anche questo coltello in realtà può essere tenuto chiaramente per collezione però credo che abbia le carte in regola anche comunque per un suo utilizzo bene direi che siamo arrivati alla conclusione di questa carellata sui coltelli resi mitici dal cinema spero che il video vi sia piaciuto spero che vi abbia divertito vi abbia anche un po incuriosito e ancora un grande ringraziamento a Floriano ci vediamo eventualmente alla prossima un saluto a tutti ciao grande Pierfrancesco e grazie per questa bellissima passeggiata nel mondo del cinema Pierfrancesco nel prossimo video sui coltelli nella storia del cinema non accetto scuse non accetto scuse e voglio vedere il first blood di Rambo coltello di Rambo 1 se sei un appassionato di questo genere di lame devi avere assolutamente per il resto sono coltelli soprattutto quello di Aragon che non è un coltello è un pezzo di ferro pezzo d'acciaio fatto in sua imbianza di coltello è un coltello anche non affilato che non affilerei da mettere sopra il caminetto e guardare insieme all'amorosa nelle giornate di pioggia tenendosi mano nella mano prima di fare le vostre porcherie però non è un coltello il Maserin sicuramente due fette di salame le taglia però non vorrei spingermi più in là invece il Bowie di Mr. Coccodride Andy mi fa godere comunque un bel coltellone ci sono anche delle prove di taglio sul tubo se andate a vederle dove lo pestano per bene è un bel coltellone che mi piacerebbe pestarci sopra per vedere quanto tiene sia la costruzione che il 440C ragazzi mandatemi video mandatemi video perché alla rubrica i vostri coltelli mi piace sempre di più ragazzi sentire voi che raccontate i vostri coltelli e non questa brutta faccia che parlo ogni volta ma non siete stanchi di vedermi mandate i vostri video ragazzi qualsiasi cosa arriva la pubblico perché sono troppo divertenti troppo simpatici e alcuni ci insegnano veramente tante cose ragazzi guardiamo tanti coltelli io non posso averli tutti anche il cane è d'accordo ragazzi da Pierfrancesco da questa bella passeggiata nei coltelli nel cinema dal parchetto del tagliagole è tutto buona giornata e tchau